È stata presentata stamattina a Palazzo Zanca, alla presenza dell'assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro, la pedalata cicloturistica sulle strade dello Squalo, iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall'Associazione ASD Beach & Bike, in collaborazione con la compagnia di navigazione MSC Crociere. All'incontro hanno preso parte il presidente dell'ASD Silvano Martella, unitamente ai componenti del direttivo Enzo Rizzo e Giacomo Ingrao. La pedalata ciclistica non agonistica è rivolta ai croceristi cicloamatori che si trovano a bordo della MSC World Europa, intenzionato a godersi durante lo sbarco a Messina del 15 ottobre prossimo un'esperienza speciale per una passeggiata in bici lungo il percorso cittadino che conduce Colli San Rizzo, guidare dallo Squalo dello Stretto il campione messinese Vincenzo Nibali, che giungerà a Messina proprio a bordo della MSC World Europa, insieme a lui i compagni di tante imprese, Maurizio Fondriest, Domenico Pozzovio e Raffaello Ferrara. Grazie.